Ciao, sono Stefano Allegri, ho 31 anni e ho frequentato il terzo corso di alta formazione per cuoco del 2019 qui in Cast Alimenti a Brescia. Mi è stato chiesto di dire perché ho scelto Cast. All'inizio del corso mi era già stata fatta questa domanda, i primi giorni, e ho risposto semplicemente anche superficialmente che volevo delle solide basi per poter fare questo mestiere e lavorare in cucina. Detto questo, ci tengo a dire che non ho avuto solo delle solide basi, ma ho trovato molto, anzi moltissimo di più. Ho avuto delle solidissime basi su cui lavorare in cucina, ho conosciuto dei docenti molto, molto preparati, molto, molto gentili, severi quando serve, ma anche gentili sempre quando è necessario. Sono sempre a disposizione nostra, sia durante il corso che dopo. E oltre a questo, oltre alla tecnica e oltre alle conoscenze, ho trovato una famiglia perché si è creato un gruppo bellissimo tra me e gli altri miei colleghi corsisti, tra la segreteria, tra la mensa e tutti quelli che sono in questo gruppo meraviglioso. e invito tutti a venire qui a imparare questo mestiere stupendo, perché qui si ha la possibilità non solo di imparare un mestiere, ma di crescere, sia dal punto di vista culinario, gastronomico e tecnico, ma anche come persona. Perché, appunto, come dicevo, oltre alle tecniche viene insegnato anche il rispetto del cibo, il rispetto per le persone, l'etica, il voler fare bene questo lavoro, non solo il saperlo fare. Quindi venite tutti in Castalimenti Brescia, non ve ne pentirete assolutamente. Io ho scelto Castalimenti, e tu? Castalimenti Brescia